Comentare questa attività che il Sistema Museale del Valdarno ha messo in piedi e ha rivolto e cerca di coinvolgere i nuovi cittadini della nostra vallata nella conoscenza dei nostri musei, delle attività che ci sono all'interno, di far conoscere, in questo caso parlando del Museo delle Ferre Nuove la storia della nostra città e un po' di buona parte del nostro territorio perché le città murate e merivievali sono, è una delle caratteristiche del Valdarno perché non riguarda solo San Giovanni ma riguarda San Giovanni, Ferre Nuova, Castelfranco, La Perina, quindi ci sono una serie di storie che possono essere raccontate e sicuramente vanno raccontate non solo a chi c'è nato ma anche a chi ci abita pur essendo nato da altri parchi. Credo sia un bel elemento di integrazione anche questo perché sentirsi parte di una comunità è anche conoscerne la storia, conoscere ciò che è raccontato all'interno dei musei che generalmente raccontano un pezzo della storia di un territorio che sia la storia delle sue opere d'arte, dei suoi luoghi di lavoro o più in generale di come è nata una città. Quindi aver messo in piedi questa attività credo sia un bel modo per fare integrazione anche all'interno del Valdarno partendo da aspetti culturali come quello di una visita al museo. Io non ho altro a dire anche...